Carissimi amici di Deciasti, oggi andiamo a vedere la recensione del top gamma di Sony Z3. Bordo in alluminio, vetro davanti, vetro dietro, 3 giga di RAM, certificazione IP68 e una fotocamera da 20.7 megapixel. Come gira Z3? Scopriamolo insieme! Bene, questa è la confezione di vendita di Sony Xperia Z3. Al suo interno troviamo il cavetto di connessione al computer, l'adattatore per la ricarica da parete, gli auricolari con i gommini di riserva e anche un cavetto OTG per collegare il telefono a delle chiavette esterne. Abbiamo il telefono colorazione nera, costruito in vetro anteriore, vetro posteriore e contorno in alluminio. È un telefono abbastanza sottile, vi ricordo le dimensioni che sono di 146,5 x 72 x 7,3 mm di spessore. Il suo peso è di 152 grammi. Rispetto al Sony Z2 della precedente generazione, Sony è riuscita a alleggerire lo Z3 di 10 grammi, quindi cosa molto positiva. Guardiamo la costruzione del telefono, abbiamo sul lato sinistro un ingresso coperto per caricare il telefono, per connetterlo al cavetto con ingresso micro USB. Connettore di ricarica magnetica, abbiamo lo spazio per il laccetto posto qua, continuiamo a guardare in basso dove non troviamo niente, tutto pulito. A destra troviamo il pulsante di scatto della fotocamera a doppia corsa, bilanciere per il volume, accensione blocco-sblocco e uno sportellino un po' più lungo che nasconde l'ingresso per la nano SIM e l'ingresso per la micro SD, perché il telefono è dotato di 16 GB espandibili. Andiamo infine in alto per vedere il secondo microfono per la soppressione rumori e l'ingresso per i jack per le cuffie. Questo è quello che troviamo sul laterale. Andiamo sul frontale. Sul frontale abbiamo il LED di stato qua in alto, abbiamo la griglia principale e abbiamo sensore di prossimità, di luminosità e la fotocamera anteriore da 2,2 megapixel. Andiamo sul posteriore a vedere questo vetro bello liscio e molto molto delicato esposto ai graffi, quindi fate molta attenzione. Abbiamo 20,7 megapixel di fotocamera con il flash LED. Anteriormente c'è da segnalare la presenza di due casse altoparlanti, quindi casse stereo. Vi dico subito, nota dolente, che durante la chiamata, se riceverete una chiamata, l'audio della suoneria uscirà solo da una cassa, non da due. La doppia riproduzione è prevista solo per l'ascolto della musica. Quindi c'è da distinguere questa modalità di esecuzione dell'audio. Il processore che muove questo Z3 è uno Snapdragon Quad Core 801 da 2.5 GHz con una RAM a disposizione di circa 3 GB, quindi una notevole quantità di RAM. Connettività 4G LTE, presenza anche della radio RDS, ottima notizia. Gira video in 4K ovviamente. Batteria non removibile da 3100 mAh, quindi una ottima capacità di batteria. Sony Z3 è anche dotato di certificazione IP68, quindi una alta resistenza a acqua e polvere, quindi tranquillamente possiamo farci la doccia. Ma andiamo a vedere anche il display, 5,2 pollici, full HD 1920x1080 pixel. Ve lo avvicino alla videocamera e vi faccio vedere la bellezza di questo display. Eccolo qua. Sony Z3. Andiamo subito a vedere quello che ci interessa di più. La RAM è libera. Allora, applicazioni, andiamo a vedere la RAM. Abbiamo su 2.7-2.8 visualizzati disponibili per l'utente una quantità usata di RAM di 1.5 GB, con un RAM libera addirittura di 1.2 GB. Quindi difficilmente andremo mai a riempire o a far rallentare questo telefono. Telefono che nella sua interfaccia gira benissimo, non ci sono mai lag, tutto è molto molto fluido. Vedete anche voi la fluidità di questo telefono. Sezione album. Album, sapete, di Sony mette tutto nella stessa, diciamo, impaginazione. Quindi non abbiamo distinzione per cartelle, con un'anteprima di quello che abbiamo all'interno in album, qua in alto. Per vedere le cartelle, dobbiamo andare nell'apposita sezione cartelle e classificare tutto in cartelle. Vedete, oppure la sezione della fotocamera. Fotocamera, andiamo subito a vedere come scatta le foto questo Sony Z3. E vi dico che per essere una 20.7 megapixel, i risultati sono solo buoni, non ottimi. Ci sono telefoni che scattano foto migliori. Ho la sensazione che Sony non si impegni mai nella qualità fotografica, nonostante abbia delle ottime potenzialità. Per far girare bene la fotocamera degli ultimi Sony usciti, dobbiamo andare sempre a lavorare sugli scatti in modalità manuale. Comunque, scatti tutti in automatico, perché non sto a farvi vedere la qualità in manuale, in quanto il telefono principalmente viene usato sempre come punta e scatta. Le macro vengono abbastanza bene, non c'è nulla da dire. Andiamo nella panoramica. Sulla foto panorama, vedete che al minimo zoom ho già una perdita del dettaglio. Vedete, non è che ci sia questa grande messa a fuoco nella distanza. Vedete, anche questa immagine è abbastanza pulita, ma perché ci troviamo nel raggio di 10 metri, non di più. Anche le macro, vedete, confermate ad alti livelli. Ci sono tutte le visualizzazioni dei difetti della molletta qua, vedete, tutte molto molto belle. Anche questa macro, vedete, al buio. Questa macro è fatta in penombra, ve la faccio vedere, vi avvicino il telefono. Non è una macro perfetta. Vedete qua ci sono delle imperfezioni, delle sgranature. Non è una macro perfetta, ahimè, perché il telefono, quando si tratta di luce scarsa, come tutti i telefoni del resto, va in difficoltà. Però questo Sony Z3 ne va anche troppo in difficoltà, in condizioni di scarsa luce, ahimè. Altre foto fatte con il flash, ve le faccio vedere. E come possiamo vedere, nella distanza ravvicinata, il telefono mette a fuoco molto molto bene. Vedete, con l'aiuto del flash, diciamo che la fotocamera viaggia molto bene. Dove soffre, vi ripeto, secondo me, la fotocamera di questo Z3 è nelle foto a distanza e in condizioni di scarsa luce. Ripeto, in modalità manuale tutto dovrebbe migliorare. Vi faccio vedere anche l'interfaccia di questa fotocamera. Quindi sezione scorciatoie, sezione impostazioni. Notiamo come in automatico si possa scattare in 16 noni o in 4 terzi, vedete. E le impostazioni per la modalità automatica, che non sono molte. Se premiamo qua il tasto della modalità, diciamo, che vogliamo selezionare, andiamo nelle varie modalità. Ovviamente si possono scaricare anche alcune modalità, che sono tante, che possiamo vederle qua. Non sto a elencarvele, vi faccio parlare le immagini. Tornando nelle modalità, diciamo, inserite da Sony, andiamo in manuale, scatto con suono, mettere la doppia fotocamera, quindi panorama e volto dell'anteriore, usare più fotocamere, divertimento, che abbiamo visto in un approfondimento sul canale di The Chasti, vi invito a vederlo. Video in 4K e registrare video con altra frequenza di fotogrammi e live su YouTube. La più importante ritengo sia la modalità manuale. Guardate in manuale quante possibilità di personalizzazione ho sulla fotocamera. Vedete, 4 terzi, 20 megapixel, 16 noni, 15.5. Consiglio comunque di scattare foto sugli 8 megapixel, otterrete sempre ottimi risultati e una compressione dell'immagine abbastanza ragionevole, senza stare a complicarvi troppo la vita. Quindi, avendo già approfondito il discorso della fotocamera, passiamo anche al discorso musica Walkman. Vedete questa bellissima grafica che ci offre il nostro Sony per vedere quello che c'è nella nostra libreria, doveva andare nella libreria personale e andiamo ad ascoltare appunto un brano. E vedete, l'audio esce da entrambe queste due casse. Com'è l'audio? L'audio è molto molto buono, ricco di bassi, pulito e tutto. Non ha una potenza da record, quindi è un audio che prevale, che spicca per la qualità, non per la quantità di volume emesso dalle casse. Quindi, anche parlato di audio, andiamo ad apprezzare meglio questo display. Vi faccio vedere un video in 4K e andiamo, con questa scusa, a apprezzare il display di Sony Z3. Bene, come si accede al multitasking? Abbiamo i tre tasti touch inseriti nel display che, ahimè, mangiano spazio. Indietro abbiamo il tasto Home, per ritornare sempre all'Home principale, e il tasto multitasking. Quindi o facciamo uno swipe sulle singole applicazioni o chiudiamo tutto. Sempre nella sezione multitasking abbiamo le applicazioni, diciamo, fluttuanti e rapide, che si possono inserire in qualunque parte del nostro display. Facciamo un pinch out e otteniamo la personalizzazione della Home. Stessa personalizzazione che possiamo ottenere tenendo premuto sulla Home in un'area vuota. In quest'area vuota troveremo la sezione Widget, Applicazioni, Sfondi e Motivi. Motivi che, precaricati, sono abbastanza noiosi. Cambia solo il colore, vedete? Se volete dare un tocco di classe al vostro Z3, andiamo a cambiare il motivo. Io ho inserito l'Hollipop Lite. Possiamo mettere anche un altro tipo di tema, Minimal. Andiamo a vedere l'applicazione del motivo e abbiamo cambiato completamente la forma dei tasti qua in basso, ovviamente, e anche lo sfondo. Andiamo a cambiare però questo tipo di sfondo. Ecco qua. Abbiamo cambiato lo sfondo per una recensione con uno sfondo più scuro. Cliccando sul tasto qui, andiamo a disattivare il telefono, andiamo a metterlo in stand-by per rianimarlo. Doppio tap, vedete? Doppio tap però che funziona solo al risveglio, non allo spengimento. Andiamo a vedere anche a che punto siamo con gli aggiornamenti software. E andiamo a vedere che siamo alla versione 4.4.4 KitKat. È previsto anche l'Hollipop. Aspettiamolo a settimane, quindi manca davvero poco. Siamo a febbraio 2015. Per quanto riguarda la fluidità, Z3 è uno dei telefoni più fluidi che ci sono sul mercato. Guardate anche voi la fluidità della navigazione sia su Facebook sia su Chrome. Il browser internet installato su Z3 in quanto Sony non ha un browser dedicato. Abbiamo un pinch in e out velocissimo, un doppio tap per fare il resize della pagina idem, velocissimo. E andiamo anche nella home di questo sito per vedere come si comporta e non ci sono problemi. Vedete, chiediamoli il sito anche in modalità desktop, essendo anche molto molto grande, vedete anche voi come la navigazione sia pulita. Vi apro anche a questo punto per finire una sezione e vedete come sia ottimo il browser di questo Z3. Allora, batteria, batteria impressionante perché l'ho stressato da ieri, l'ho veramente stressato. Sono al 58%, gestione batteria con il 58% stima ancora un giorno e 23%. Andiamo a vedere anche l'utilizzo della batteria. 22 ore usate, quindi con un giorno pieno, sono a metà. Vediamo quanto display ho fatto. Sono riuscito a fare due ore e mezzo di display consumando meno della metà della batteria. Quindi capite bene che con uso medio intenso Z3 riesce a coprire dalle 4 alle 5 ore di display. Quindi una favolosa durata della batteria. Diciamola tutta, Z3 è molto molto bello ma molto delicato qua sulla parte posteriore, si graffia molto facilmente. Avendo anche la certificazione IP68 è penalizzato anche da dei bordi attorno al display. Vedete questi bordi che non tendono a mettere il display a filo scocca ma tendono a inserirlo in una mattonella. Mattonella molto molto elegante, ve la continuo a far vedere in ogni angolazione, però ahimè ci sono tanti bordi sopra, sotto e sul lato e anche ovviamente questi tasti touch che vanno a mangiare parte dei 5.2 pollici di display. Tirando giù il menu a tendina abbiamo la sezione notifiche in prima pagina e le impostazioni rapide in seconda opzione. Modifichiamo queste impostazioni e le possiamo spostare a nostro piacimento oppure aumentare nella quantità. Vedete ci sono queste che non ho inserito, basterà portarle qua nello schermo e avremo queste nuove scorciatoie applicate. Secondo menu che è facilmente accessibile portando due dita qua sullo schermo. Possibilità anche di inserire una home semplificata. Cos'è la home semplificata? Non è nient'altro che una schematizzazione della home con delle applicazioni e delle scorciatoie dirette. Vedete questo è quello che otteniamo. Bene, cosa dire di questo Z Tarry? Costa in negozio circa 599 euro, online ovviamente anche un centinaio di euro in meno. È un telefono che fa del design il suo punto di forza. Sottile, relativamente leggero, costruito con materiali importanti, vetro e alluminio. Punti di forza di questo Sony sono la impermeabilità, la resistenza ad acqua e polvere. Abbiamo una batteria eccellente, abbiamo visto e abbiamo parlato dell'utilizzo della batteria nella recensione. E una qualità audio davvero pulita, davvero eccellente. Oltretutto, Z Tarry gode di 3 giga di RAM ed un processore molto molto potente che ne favoriscono la fluidità ad ottimi livelli. Parliamo anche di punti dolenti. Rimangono senza dubbio la presenza di forse troppi bordi a contornare il display. E una fotocamera ancora non all'altezza degli ultimi top gamma usciti negli ultimi mesi. Bene ragazzi, vi è piaciuto questo video? Se vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace qua in basso e ad iscrivervi al mio canale, il canale di The Chasti, per non perdere le nuove recensioni. Un saluto a tutti da Davide. Ciao ragazzi! Grazie!